Matteo, non era facile ricominciare dopo la lunga pausa di campionato e peraltro quella che avete affrontato domenica sera era tutt'altro che una squadra semplice, la Cremonese? Sì, la partita dopo la sosta è sempre un'incognita perché non si sa mai come si sta fisicamente. Noi abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato tanto, non eravamo brillanti però abbiamo incontrato una squadra che comunque è venuta qui a giocare con umiltà mettendosi con due linee da quattro e concedendoci veramente poco palleggio tra le linee e diciamo che il risultato del pareggio è quello giusto. Quindi possiamo dire a distanza di qualche giorno che è un punto guadagnato dal Pescara nella rincorsa alle parti alte della classifica? Sì, sì, quando vedi che comunque ti manca quella parte finale dell'azione dove non si riesce mai ad entrare dentro l'area avversaria è bene non perdere. Adesso arriva il Livorno, sulla carta ma solo sulla carta potrebbe sembrare una partita semplice per il Pescara terzo in classifica e invece? E invece non è così perché abbiamo visto in tutti i campionati, a parte in Serie A dove la prima contro l'ultima difficilmente possa averne la meglio, in Serie B questo non è così. Abbiamo visto il Padova che ha rifilato tre gol al Verona quindi sarà una partita tosta insomma. Pescara è terzo in classifica, hai detto della sconfitta del Verona, c'è stata anche quella del Palermo. Avete anche voi la sensazione che questo è un campionato che il Pescara credendoci davvero può far su arrivare tra i primi due per la promozione diretta? Noi lavoriamo per questo, se abbiamo questi punti non è un caso. Siamo riusciti comunque a dare continuità ai risultati in questo girone d'andata. Se continuiamo con l'umiltà, con la voglia di raggiungere un obiettivo possiamo farcela. Tanti movimenti soprattutto in difesa del Pescara. È arrivato Liviero che tu in fondo un po' conosci. Sì, sì, come ho detto prima ha giocato già con mio fratello a Perugia quindi qualche partita già l'avevo vista. È un giocatore ancora giovane perché è un 93, è stato un po' bloccato da diversi infortuni ma è un buon prospetto. Ti lancio una provocazione, visto che probabilmente il Pescara davanti qualcosa vorrà anche fare se parte qualcuno. E visto che c'è un forte legame tra te e tuo fratello e che Daniel forse è in uscita da Frosinone, una telefonata magari gliel'hai fatta? Ma sicuramente ne abbiamo parlato io e lui però non ne dobbiamo parlare io e lui quindi vedremo un po' nei prossimi giorni, non so che dirvi.